ciao ragazzi bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video come state almeno voi spero tutto bene fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché ci tengo come ormai qualcuno di voi saprà sì mi sono fatto fregare dal covid tutto l'anno super attento super niente sono arrivato alla fine e mi sono fatto fregare alla fine di quest'anno il covid ha beccato pure me per una stupidaggine oggi faccio questo video più che altro perché sono completamente sparito dai social e voglio darvi un po un quadro di quello che sta succedendo come mi sono beccato il covid è dirlo è difficile ho un paio di idee ma poi oggettivamente chi lo sa allora facciamo il punto della situazione sabato 18 dicembre il mio compagno di ufficio è stato a contatto con un positivo lui ha fatto da subito la quarantena e è tornato in ufficio il 23 il 23 dicembre è tornato in ufficio con tre o quattro tamponi rapidi alle spalle negativi e quindi stavamo tutti tranquilli io il 22 ho fatto la cena di squadra io faccio pratico calcio a 5 all'io all'agonistico siamo tutti vaccinati in squadra altrimenti non potremo andare a fare le partite ufficiali del campionato e la sera stessa abbiamo fatto anche la cena durante la cena eravamo tutti ben distanziati abbiamo fatto due tavoli per riuscire a stare tutti distanziati insomma le cose fatte per bene il 25 scrive sul gruppo un ragazzo e ci avvisa del fatto che comunque lui è positivo questo è il problema più grosso il problema più grosso è che secondo me il mio covid arriva da una di queste due faccende o dall'ufficio o dalla squadra però vabbè chi se ne frega ormai è preso per fortuna lo sto malissimo però insomma ecco poteva andare sicuramente anche molto peggio io il 24 mattina ho cominciato ad accusare un po' il primo colpo ovvero avevo dolore qui su questa fascia della testa avevo il naso tappato facevano male le ossa avevo un po' di febbre però non mi sono preoccupato più di tanto perché ho detto vabbè io soffro di sinusite in maniera importante cioè basta un colpo di vento io sto male però ho detto vabbè sai che c'è è il 24 stanno per arrivare tutte le feste e starò a cui parenti mi faccio il tampone così sto tranquillo faccio il tampone tampone esito negativo quindi ok sono stato con mia nonna mio nonno la famiglia della mia ragazza tutto il resto ed è stato un errore è stato un errore perché non dovevo fidarmi soltanto del tampone rapido dovevo sicuramente farmi anche il molecolare ma sono introvabili io abito in un paese di circa 3000 persone sono veramente introvabili chiami il centro covid non ti rispondono mai perché sono sempre impegnati al telefono con altre persone è veramente un delirio non posso immaginare cosa c'è nelle città più grandi qua ogni due giorni saltano fuori nuovi positivi è veramente un disastro nel vero senso della parola veramente un disastro quindi vabbè mi accontento del tampone rapido stiamo tutti insieme io stavo sempre un po' così un po' acciaccato però comunque mi sono fatto una cura di antibiotico vedevo che comunque non è che migliorassi chissà quanto e dopo le feste il 27 mattina faccio un altro tampone un altro tampone rapido questa volta è positivo faccio il tampone insieme a mio fratello positivo anche lui dico all'altro mio fratello mia madre o fatevi il tampone pure voi perché io e il mio fratello siamo appunto positivi fanno il tampone anche loro positivi pure loro vabbè ovviamente da lì avvisiamo tutte le persone con le quali siamo stati a contatto mio nonno positivo mia nonna negativa non so come è possibile attualmente la mia ragazza e la sua famiglia non hanno ancora fatto il tampone lo faranno tra qualche giorno oggi è il 30 mi sembra che hanno appuntamento direttamente per il molecolare il 2 il 2 o il 3 comunque noi siamo stati insieme il 27 il 2 o il 3 va bene nel senso dovrebbe essere abbastanza affidabile come risultato quindi aspettano il 2 o 3 gennaio per fare appunto questo tampone ma comunque loro non hanno nessun tipo di sintomo quindi secondo me se la sono svignata lo spero per loro come sto io allora innanzitutto grazie perché su instagram mi avete veramente riempito di messaggi mi ha fatto super piacere grazie mille come sto così parlo col naso mi fanno male le ossa non sempre non ho la febbre quindi in realtà è abbastanza gestibile sono stato fortunato perché comunque riesco anche a lavoricchiare un pochettino soltanto la mattina perché poi non riesco a stare troppo davanti ai monitor e il pomeriggio sono decrepito a letto però quantomeno detto è gestibile si può ci si può convivere ecco a casa siamo tutti e quattro positivi quindi la quarantena la stiamo facendo in maniera meno forzata degli altri probabilmente siamo tutti e quattro positivi quindi si mangia tutti insieme si sta insieme chiaramente cerchiamo di stare sempre distanziati sempre con le mascherine quindi insomma diciamo che la sto vivendo anche non troppo male tutto il punto di vista umano comunque non sto completamente da solo poi ci siete voi insomma che mi fate anche un sacco di compagnia quindi però ecco sto anche con la mia famiglia perché comunque siamo tutti positivi chiaramente appena uno dei quattro guarirà capiremo come muoverci il mio medico ha detto che dopo sette giorni dalla quarantena possiamo fare il tampone molecolare io mi sono isolato il 27 oggi è il 30 sono passati appena tre giorni a me sembra un mese però dovrò aspettare altri 4-5 giorni e poi provare appena dare il molecolare in quanto non si trovano non capisco ora non voglio fare il complottista e perché per cari addio ci mancherebbe non è il mio ruolo però non capisco per quale motivo fino a un mese fa i tamponi rapidi andavano bene ora non vanno più bene ne ho sentite di tutti i colori questi giorni perché il governo deve guadagnarci con i molecolari di qua di là non lo so io voglio vederla così è cambiato il virus i rapidi non vanno più bene ok cerco sempre di guardare il buono nelle persone magari mi sbaglio magari sono un fesso io però spero che sia così dovrò pagare questi 60 euro per fare sto molecolare li pagherò non me ne frega niente anche se sembra che se il medico di base ti fa la ricetta per il tampone molecolare non si paga il molecolare vabbè non me ne frega niente cioè io spero soltanto di poterlo pilotare al più presto perché attualmente è veramente un delirio riuscire a pilotare il molecolare è quasi impossibile veramente chiamino rispondono mai per mail che te lo dico a fa è veramente un disastro vedo che in questi paesini è veramente difficile per dire ad esempio di mio nonno il medico gli ha mandato la ricetta per mail mio nonno non può stamparla perché non ha la stampante a casa e ha preso appuntamento per il molecolare gli hanno detto che quando va a fare il molecolare deve portare anche la ricetta del medico stampata ora ho detto a mio nonno di richiamare e chiedere il favore magari se gliela stampano loro lì direttamente in laboratorio la ricetta in quanto lui ha 70 anni e non c'ha la stampante cioè è un disastro veramente un delirio come società probabilmente non eravamo pronti ad affrontare un problema del genere però dobbiamo farci forza e provare ad andare avanti come detto io sto abbastanza bene riesco a gestirla quello che voglio fare con questo video però è fare un appello specialmente per la giornata la serata di domani che è capodanno mi raccomando siate responsabili non fate coglioni tenete sempre la mascherina abbassatela soltanto per bere o per mangiare cercate soprattutto di stare distanziati nei limiti e soprattutto magari se riuscite fate un tampone prima di vedervi con amici e parenti non fate il solito discorso no sono vaccinato non faccio il tampone chi se ne frega cioè mettete da parte l'orgoglio cioè per il bene vostro e degli altri tamponatevi prima di andare a divertirvi a capodanno poi se riuscite se uscite negativi dal tampone ok più leggeri si sta più tranquilli ci si diverte però dovete divertirvi ovviamente responsabilmente per voi e per gli altri perché se voi volete stare male volete ammalarvi non è giusto che per per voi ci debbano rimettere pure gli altri quindi questo è importante è un messaggio che sto cercando di mandare avanti da più tempo tutti i miei social e spero che chi mi segue insomma riesca a condividerlo io come detto sto bene però il virus potrebbe prendere anche a voi spero di no potrebbe prendervi in maniera più aggressiva spero di no quindi non sottovalutatelo state sempre attenti sfruttate a dovere le mascherine cambiatevele un paio di volte al giorno specialmente se lavorate in ambienti chiusi mi raccomando non prendete il virus sotto gamba perché come detto a livello organizzativo non eravamo pronti ad una pandemia del genere dopo un anno non siamo ancora pronti quindi veramente ogni piccolo passo ognuno di voi può fare la differenza non voglio esortare una campagna al vaccino non voglio neanche fare il contrario non voglio neanche dire viva i novax perché sinceramente non me ne frega niente fate quello che vi pare l'importante è che per colpa vostra non debbano rimetterci pure gli altri poi per il resto fate quello che volete non volete fare il vaccino state bene chiusi a casa poi per il resto veramente fate come volete io l'ho fatto avevo anche prenotato già la terza dose lo dico tranquillamente chiaramente ho distetto l'appuntamento in quanto adesso guarendo dal covid ero il green pass per i sei mesi di guarigione covid sei quattro mesi non si è ancora capito e poi farò la terza dose quindi comunque per adesso è tutto un pochettino in stop quindi mi raccomando domani divertitevi ma divertitevi responsabilmente è veramente importante per voi stessi e per gli altri detto ciò iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto se non mi conoscevate prima di questo video perché sì o magari sto video va in giro e la gente inizia a conoscermi tramite questo video nel caso iscrivetevi se vi piace la tecnologia perché nel 2022 arriveranno un sacco di contenuti bomba e sono sicuro che piaceranno anche a voi e lo dico qui probabilmente con l'ultimo video dell'anno entro la fine dell'estate 2022 proviamo a raggiungere insieme i 10.000 iscritti siamo a poco più di metà di questo percorso ma secondo me possiamo farcela perché stiamo creando una community veramente incredibile sono fiero di tutto quello che abbiamo costruito assieme grazie ancora per tutti i millemila messaggi che mi avete mandato su instagram arriverà prima o poi ve lo giuro purtroppo sono stato male il video su questo ipad ce ne saranno veramente diversi dovrò padarvi di lui un bel po ho già un paio di video pronti quindi insomma mettetevi comodi iscrivetevi attivate la campanella così non vi perdete tutti i prossimi contenuti che saranno veramente super super interessanti grazie ancora a tutti voi per il supporto io sono luca crocco e noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale youtube magari quando smetterò di parlare col naso ciao